gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche. Segnalo che nel corso dell'esame in Commissione sono pervenuti pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a una condizione volta a garantire rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Salto la parte sull'ione del provvedimento e consegno l'intervento. Auspico soltanto, Presidente, in conclusione l'approvazione di questo provvedimento che consentirà una collaborazione sempre più stretta tra Italia e Giordania nel contrasto al crimine organizzato trasnazionale e al terrorismo internazionale nelle sue varie forme. Grazie. La ringrazio, Onorevole Porta. A questo punto chiedo se il rappresentato del Governo intenda si riserva. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione di segno di ratifica già approvato dal Senato, numero 3301, ratifica d'esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulaanba Tor il 30 aprile 2013. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari e Esteri si intende autorizzare riferire oralmente a facoltà di intervenire il relatore onorevole Bruno Censore, non prima però di aver salutato i giovanissimi studenti e gli insegnanti della direzione didattica statale di Fucecchio in provincia di Firenze che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Prego, relatore. Illustre Presidente, colleghi deputati, rappresentanti del Governo, l'accordo del nostro esame è già ratificato dalla Mongolia e è diretto a consolidare le relazioni e il dialogo politico con il Paese asiatico attraverso un partenerato di ampia portata strategica con particolare riferimento ai comparti del commercio e degli investimenti, dello sviluppo sostenibile, dell'istruzione e della giustizia. L'intesa si appianca a quella già vigente in materia di scambio e cooperazione economica e costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle notevoli potenzialità strategiche, considerate anche i suoi rapporti con la Cina e la Russia.